Rilevata la presenza del batterio della legionella nelle scuole municipali dell'Orciolaia di San Leo, sono così già scattati gli interventi prescritti per la disinfezione dei rispettivi impianti idrici. Sin da subito sono stati infatti messi in atto gli interventi tecnici quali lo shock termico necessario all'abbattimento del batterio e la sostituzione dei rubinetti, a ciò poi ci sono aggiunte le prescrizioni di tipo comportamentale come il non utilizzo delle docce, il frequente ricambio d'aria degli ambienti, la chiusura dei servizi igienici quando non utilizzati. È prevista poi un'ulteriore sanificazione degli impianti idrici come da protocollo propedeutica alla ripetizione dei campionamenti dopo le 48 ore dal primo intervento al fine di verificare l'eventuale necessità di riproporre la procedura qualora il batterio risultasse ancora presente. Per ragioni di trasparenza e correttezza, sottolineano il sindaco Alessandro Ghinelli e il vice sindaco Lucia Tanti, riteniamo necessario dare questa dettagliata informazione rassicurando tutti dell'attenzione con la quale seguiamo anche personalmente la questione. Sarà nostra cura, concludono, comunicare ogni informazione sino alla soluzione definitiva della situazione.